Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, ben ritrovati, state bene? Mi auguro di sì, attenzione, andare fuori ancora è presto, state lì perché il covid non scherza, dovete stare in casa a studiare e vedrete che avrete delle belle soddisfazioni. Allora, visto che siete in casa, oggi è un ripasso, diciamo un ripasso, della scala di si bemolle. La scala di si bemolle, con due bemolle in chiave, è praticamente la prima scala che si impara quando si studia il trombone. Quindi abbiamo detto due bemolle in chiave, in quattro quarti, la facciamo lentamente, cerchiamo di far suonare il trombone e chi se ne frega se sbagliamo la nota, ok? Non è un problema, l'importante è che facciamo le posizioni giuste e che ci apriamo, ok? Un bel fiatone, one, two, three. Torniamo indietro, one, two, three. Ok? Ci siamo? Perfetto, la facciamo un pochino più veloce. One, two, three. Ripartiamo e ritorniamo e scendiamo. Three, and, oh. Ecco, questa è la scala di si bemolle. E la scala di si bemolle, come l'ho fatta adesso, la facciamo. Partiamo dalla prima posizione, poi la sesta, poi la quarta, poi la terza, poi la prima, poi la quarta, poi la seconda e poi la prima ancora. Quindi, one, and, two, and, three, and, oh. Ok? Ci vediamo alla prossima lezione e studiate. Ciao!